Nervesa della battaglia, Treviso, e tu quale Barbie vuoi essere? Lo slogan a fianco di un'immagine di Barbie grassa e un'altra di Barbie magra, firmata da un centro sportivo del Monte Bellunese in fiamma la rete fa arrabbiare tutti. Da marketing aggressivo a scivolone è stata solo questione di qualche giorno, forse addirittura solo di qualche ora. L'immagine di una bambola sovrappeso, agghindata da Barbie ma con doppio mento e braccia poco toniche paragonata al simbolo della Mattel si diffusa in fretta tra i social network. Lo slogan offensivo che pubblicizza la liposuzione ha scontentato tutti e in poche ore gli utenti si ribellano al punto da costringere al ritiro dell'immagine che mette a confronto lo stereotipo con la Realt, la perfezione contro la vita reale. Alla pubblicità aggressiva sono seguiti i messaggi piccati degli utenti che hanno sottolineato come non sia possibile il paragone tra giusto o sbagliato usando come modello una bambola e cui canoni estetici non hanno alcuna attinenza con quelli reali. Ci scusiamo, avrebbero riferito i titolari del centro sportivo, non volevamo offendere nessuno. Ormai per la frittata fatta. E a PD qualcuno risultata indigesta.